buongiorno 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 benvenuti a questo nuovo appuntamento action news le video analisi sulle notizie quelle che muovono i mercati e poco fa poco fa sono arrivate dichiarazioni era proprio intervistato qui sul cnbc il direttore dell'agenzia internazionale dell'energia qui anche la notizia sul radiocorre che poi è la persona che aveva detto ad aprile aspettiamoci un aprile nero per il petrolio e così è stato poi effettivamente sappiamo tutti quel famoso lunedì 20 aprile che è entrato nella storia per la prima volta un contratto future su petrolio che è andato sotto zero per varie ragioni c'era rollover scadenza tecnica volumi bassissimi però insomma è stato è tutto sommato un aprile nero e adesso vediamo da quello che il report leggiamo insieme qui da radiocorre l'agenzia internazionale dell'energia un po meno pessimista sull'andamento della domanda di petrolio e prevede ora che il calo sarà meno accentuato di quanto previsto inizialmente man mano che i paesi allentano le misure di lockdown e poi comunque avverte vedete dei rischi che una nuova ondata dell'epidemia di covid 19 avrebbe su una ripresa graduale ma fragile e poi vedete nel suo bellettino mensile prevede un calo del consumo di petrolio di 8,6 milioni di bari l'ageno un po meno dei 9.3 previsti per il mese scorso anche se resta una flessione record le aziende stanno riprendendo gradualmente le persone tornano al lavoro il che darà una spinta alla domanda di petrolio è una settimana in cui stanno arrivando tantissime notizie sul petrolio lunedì l'arabia saudita ha detto siamo pronti a tagliare un altro milione di barili al giorno oltre a quello che l'accordo fatto a basqua scorso scusate di 9.7 paesi opec plus opec e non opec quindi lunedì e ci fu la sfuriata acquisti e poi si fermò verso i 26 50 dollari il petrolio quello wti martedì l'opec plus dice bisogna estendere i tagli storico deciso quel taglio storico deciso appunto a pasqua 9.7 che adesso è ora come ora vede prevede maggio giugno andare oltre anche giugno questo taglio e anche lì boom 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 quotazioni al rialzo ieri è uscito il dato sulle scorte di petrolio americane settimanali negative come non si vedeva da inizio 2020 oggi quest'altra notizia poi aggiunto nella telefonata che ha fatto poco fa in diretta sul cnbc il canale finanziario americano ha detto che gli annunci che sono stati fatti ultimamente dovrebbero riequilibrare la domanda e l'offerta tutto questo se andiamo a vedere adesso il grafico del petrolio mentre in corso qui la trading room io mi sono allontanato un attimo dalla trading room e vi invito a partecipare alla trading room mi trovate su internet il mio sito renatodecarolis.it ho trovato anche nella descrizione del video per partecipare sono presente su facebook instagram linkedin twitter mi trovate dappertutto vedete stanno facendo adesso non so se riuscite a vedere delle analisi c'è rossita e andiamo a vedere andiamo a vedere il grafico guardate il grafico del petrolio e ieri c'è stato un ennesimo spike al rialzo purtroppo qui adesso eccolo qua questo è l'altro spike della notizia che appunto diceva diceva no no questo qui un attimo allora voglio selezionare voglio farvi vedere voglio farvi vedere la storia mettiamo forse a 30 minuti ci fa vedere da lunedì perché voglio far vedere da quello che è successo da partire dall 11 maggio ecco qua notizia alle verso le ore 14 e questo ovviamente vi invito a seguire la trading room perché ve le do in tempo reale queste notizie c'è stato il primo spike con la notizia l'arabia saudita un milione in più di barili al giorno poi altro spike verso le 17 30 17 anzi erano le 17 perché era ancora in corso ricordo alla trading room a cui partecipate gratis venite venite con l'open plaques che dice stendiamo i tagli fino oltre anche giugno e ieri lo spike delle 16 e 30 lo vedete benissimo qui delle 16 e 30 con le scorte settimanali di petrolio però vedete dopo gli spike il mercato è tornato è rientrato addirittura è andato sotto i prezzi precedenti allo strappo al rialzo vedete tutte e tre tutte le situazioni viste fino ad adesso poco fa ancora il movimento al rialzo torno adesso a mettere il grafico a un minuto perché tutto questo per dire che guardando il grafico sopra giornaliero ai chinasci si sta piattendo sempre di più si sta riducendo la volatilità nonostante queste notizie non parte a rialzo il petrolio e quando gli squali tanto donna saluta non si fatto vedere saluta donna degli squali gli speculatori fiutano questa debolezza poi in questo contesto adesso se c'è la serie tv su sky diavoli i diavoli vedono debolezza sono pronti a fiutare l'opportunità in questo caso di speculare al ribasso quindi fare attenzione resiste ancora il verde e chi nasce è sempre piccolina piccolina sul grafico giornaliero però occhio occhio perché questo petrolio non sta reagendo neanche di fronte insomma queste tutte notizie positive vedremo vedremo grazie ti aspetto o nella training room stanno adesso parlando di analisi dei volumi con rosita la mql suite oppure se ci sarà una nuova notizia ovviamente una nuova action news buona giornata a tutti bye bye